che finale è? si è una favola senti è finito qui? vorrei rivederlo? si ma da un'altra parte perché dobbiamo sbaraccare ti vedo agitata che hai? non hai notato che due si sono zuffate nel bagno? peccato non averle riprese vero? e se si ammazzavano? riprendevi anche quella? dai non dirmi che la seduta ti ha turbato no ma credo che abbiamo superato i limiti e vorresti incolpare qualcuno per questo vero? che cazzo dici? alzati andiamo a casa pensi che non avremmo dovuto? non occorre picchiare un bambino per fargli capire che ha sbagliato ma io non ho picchiato nessuno si sono picchiai tra di loro e inoltre sospetto che il messaggio non sia proprio arrivato a tutti quale messaggio? l'uomo bianco è uno stronzo? si un po' ma pianta ma perché mi parli come se ti avessi rubato qualcosa? ma piuttosto mi chiedo come fai ad essere così allegro? tutto qua dunque dato che te lo chiedi ti sarei fatto un'opinione tutta tua? più o meno pensi che ci abbia goduto? cosa? pensi che abbia fatto tutto questo per vendicarmi di qualcuno magari dei bianchi presenti oggi in teatro? pensi che li abbia voluti umiliare di proposito per sentirmi superiore a loro? ti piacerebbe se ti dicessi che ho goduto del loro imbarazzo e che viscito che sono stato? ho fatto tutto questo da qui senza farmi notare ho mandato avanti un bianco per turbare altri bianchi ho messo te al bancone per spiegare una deficiente la storia delle formiche che lei non ha capito e nemmeno tu e se si fossero ammazzate tanto meglio vero? direi che sono proprio l'uomo nero anche per l'uomo nero non sono molto molto l'uomo nero para le troshell Grazie a tutti.